Saint Seiya Vintage Legend Italia Un grande gruppo, una grande passione Un grande gruppo, una grande passione come sottolinea Ivo De Palma, voci di Pegasus per Saint Seiya Vintage Legend Italia Dopo aver fatto il dossier chiarificatore sui vari manga usciti attualmente nello stesso giorno ho trovato questo artbook su The Lost Canvas opera originale Masami Kurumada, testi e disegni Shiori Te Shiroji è praticamente un artbook, cos'è un artbook? sono i disegni, locandine, quello che è, è non c'è nulla a livello di manga, tranne qualche scena adesso vediamo se la trovo tranne qualche scena dove, vedete, il testo viene totalmente cancellato però si capisce che viene dal manga vedete che nell'artbook è veramente bello perché innanzitutto troviamo subito un super poster gigante con il nostro Temma, con l'armatura divina di Pegasus e Hades alle sue spalle vedete, illustrazione qua Saint Seiya The Lost Canvas, il mito di Hades opera originale, vabbè, testi e disegni, le solite cose di prima iniziamo subito, vedete qua, con Pegasus Temma e Alone dopo di che ci saranno i vari personaggi, unicorno, eccetera, eccetera anche qui è stato tolto la scritta del manga, è stato comunque colorato veramente bello anche perché i disegni di Shiori Te Shiroji mi piacciono moltissimo sono molto evocativi dal manga, però comunque con qualche miglioria, con qualche modifica come sapete già molto bello anche El Seed di Capricorn qui vediamo Sisifo, Shion e Doko, con ovviamente Sascha e il nostro Temma è insomma, è un artbook veramente molto bello, molto interessante va preso perfine a se stesso, nel senso che da collezione cui ogni tanto magari andare a rivedere i personaggi vedete qui anche Shion dell'Ariete Rasgado del Toro o Aldebaran insomma, vabbè, sono tutti i cavalieri d'oro vedete anche a smita guardate che belle, guardate che belle raffigurazioni, guardate molte magari si possono anche trovare su internet però è chiaro che stampate in questo modo, in un unico artbook, fa sempre il suo effetto per chi come me ama comunque The Lost Canvas qua, ogni cavaliere d'oro avrà uno scritto, un testo da parte di Shiori Te Shiroji dopodiché qua ci sarà la parte finale dove la Shiori Te Shiroji ringrazierà come ha sempre fatto alla fine di ogni volume e niente, questo è nella parte del retro troviamo lo stesso disegno del poster e il prezzo che è 19,90 perché prendere questo artbook, perché se amate Lost Canvas amate i disegni e volete avere comunque un ricordo è sicuramente una bella cosa da acquistare il prezzo non è altissimo sicuramente da avere se amate The Lost Canvas bene ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo dossier ciao! Sei in sei a Vintage Legend Italia! un grande gruppo, una grande passione Grazie a tutti.